In questa lezione parleremo dei vettori geometrici. Allora, dato lo spazio ordinario, adesso noi raffiguriamo lo spazio ordinario mediante un sistema di riferimento ortogonale, è possibile, presi due punti dello spazio, diciamo A e B, pensare a un oggetto che chiameremo vettore, il vettore AB, che non è altro che il segmento orientato a B. Ogni vettore è caratterizzato da quattro cose, da un punto di applicazione, che è l'origine del mio vettore, quindi nel mio esempio il punto A, da un modulo, che è la lunghezza del vettore, è rappresentata dalla lunghezza del vettore, quindi nel mio esempio la lunghezza del segmento AB, da una direzione, che nel mio esempio è questa, e da un verso. I versi possibili su questa direzione sono due, da A verso B e da B verso A, quindi nel mio caso, nel mio esempio, il verso è questo, cioè da A verso B. Questi sono i vettori intesi come segmenti orientati, adesso però noi ci rendiamo conto che per noi questo vettore e questo vettore sono la stessa cosa perché hanno diversi punti di applicazione ma hanno lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso. Saranno sicuramente da un terzo vettore che può essere, per esempio, questo qui. E allora andiamo a definire una relazione di equivalenza che si chiama relazione di equipollenza che mette nella stessa classe di equivalenza tutti i vettori che hanno lo stesso modulo, la stessa direzione e lo stesso verso. Quindi, se nell'esempio di poco fa questo è il vettore AB, questo è il vettore CD e questo è il vettore F, allora nella classe di equivalenza del vettore AB ci sta anche il vettore CD, mentre non ci sta il vettore F. Quindi d'ora in poi non solo non ha più importanza parlare del punto di applicazione, ma spesso il nostro punto di applicazione sarà l'origine del sistema di riferimento. Allora, andiamo subito a vedere come può essere fatto un vettore nel sistema di riferimento. eccolo qui. Quindi, se come punto di applicazione io scelgo l'origine del mio sistema di riferimento, allora se P è un punto, in questo esempio, di coordinate 3, 4, 3, allora io andrò a considerare il vettore P che ho ottenuto in questo modo. Quindi, sull'asse delle X ho 3 unità di misure, sull'asse delle Y ho 4 unità di misure e costruisco questo punto che è di coordinate 3, 4. Dopodiché mi sollevo di 3 e ottengo il punto P. Quindi, diciamo, noi considereremo spesso il punto di applicazione nell'origine, per comodità. Allora, ricordo quali sono le proprietà dei vettori. E allora, l'insieme dei vettori geometrici, spesso si indica con V con G, goda delle seguenti proprietà. Si può definire una somma tra vettori. E allora vediamo come si sommano due vettori. Si possono sommare con due metodi. Prendiamo, per esempio, questi due vettori. E allora il primo metodo è quello cosiddetto del parallelogramma. Vediamo. Si costruisce un parallelogramma su due vettori applicati nello stesso punto. Quindi ho questa parallela al vettore, questa parallela al secondo vettore. Il risultato della somma dei due vettori è la diagonale di questo parallelogramma. L'altro metodo consiste nel metodo testa-coda. Allora, cosa facciamo? Andiamo a prendere uno dei due vettori. Dopodiché lo inseriamo sulla coda dell'altro vettore. E uniamo la testa del primo vettore con la coda del secondo vettore. Quindi il risultato è questo qui. Quindi chiaramente è ancora lo stesso risultato. Allora, questo è il metodo del parallelogramma. E questo è il metodo testa-coda. Allora, con questa definizione di somma, si ha che esiste un elemento neutro. Cioè, un vettore che sommato ad ogni altro restituisce il vettore che abbiamo sommato. Questo elemento si indica con lo zero sottolineato. Si chiama vettore nullo ed è un vettore che ha modulo zero. Modulo zero è come direzione e verso. Beh, possiamo dire che non ha direzione e verso. Bene. Inoltre, ogni vettore ha il suo opposto. Quindi, per esempio, questo vettore ha un opposto, cioè un vettore che a lui sommato dà il vettore nullo. Ed è semplicemente questo vettore. E il vettore, avente la stessa direzione, verso opposto del vettore considerato, è lo stesso modulo. Quindi, identico. Adesso io non lo disegno proprio sopra per distinguerlo, ma andrebbe disegnato esattamente sopra il primo vettore. E la freccia dall'altra parte. Quindi la somma di questi due vettori dà il vettore nullo. Benissimo. Andiamo a vedere il prodotto di un numero per un vettore. Sia A, un numero, quindi appartenente a un campo, e sia V, un vettore, un vettore geometrico. Allora, definiamo il prodotto A per B, un vettore, dobbiamo specificare il modulo, la direzione e il verso di questo vettore, che ha come modulo il valore assoluto di A per il modulo di B. Come direzione? Come direzione? La direzione di B. E come verso? Il verso di B? Se A è maggiore o uguale di 0, possiamo dire maggiore o uguale di 0. Il verso di meno B, quindi il verso opposto a B o il verso dell'opposto di B, se A è minore di 0. Ho messo qui A maggiore o uguale di 0, però ecco, se A è uguale a 0, chiaramente il risultato è il vettore nullo.